Buongiorno e ben trovati 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 E poi ancora la fotonotizia con il maltempo allagata a Brescello, oltre 2000 sfollati, Emilia sott'acqua a Colorno affonda la Regge. Poi sempre in taglio medio esplode gasdotto in Austria, prezzi a rischio per l'Italia, descalzi, probabili rincari, calenda, serve il TAP. E poi ancora vediamo la prima pagina di Repubblica, ecco l'apertura al voto il 4 marzo e a sinistra scatta il derby dei collegi, ecco perché la soluzione piace a tutti i partiti, torna lo scontro sull'inchiesta Consip, due carabinieri sospesi per depistaggio. E poi vediamo in basso questo richiamo, clima Macron a Trump, ripensa ci stiamo fallendo. In Italia ancora una alluvione, mille evacuati a Brescello. E poi ancora spariti 200 mila italiani con il crollo delle nascite, persa una città come Padova. La protesta, Ryanair ha annunciato i nuovi scioperi, l'azienda minaccia sanzioni per i piloti e poi social e tasse, Facebook si piega al pressing del fisco, pagherà nei paesi dove fa profitti. E siamo alla prima pagina della stampa, povera Italia, siamo ultimi in Europa. Dossier, ogni giorno le menze scolastiche sprecano quasi 400 mila euro di cibo. Record amaro, oltre 10 milioni di persone vivono in stato di estrema privazione nel 2016, la situazione migliorata. E poi di spalla il Summit, leader mondiali a Parigi, la sfida di Macron, salveremo noi il clima. E poi la fotonotizia al centro Star Wars, la forza del marketing batte tutti, esce l'episodio numero 8 della saga. Mai come oggi è determinante la promozione pubblicitaria. Siamo al sole 24 ore, ecco il titolo d'apertura, svolta di Facebook sulle tasse, imposte pagate dove si generano i ricavi. Il MEF, scelta importante, un post annuncia che il network lascia la contabilizzazione unica a Dublino e passa una struttura di vendita locale. Andiamo ora avanti con la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco qui, l'assai l'ultima sui carabinieri. Consip, quattro ufficiali nei guai. Il comandante indagato del Sette rinuncia a promuovere il capo della Toscana. Salta la macchia dopo l'interrogatorio. Il colonnello Sessa, il maggiore Scafarto, inquisiti per depistaggio e sospesi per 12 mesi. Poi ancora, leggiamo un paio di richiami. Il caso Belluomo. Scuole per giudici sono pericolose come un Far West. Stop migranti. Amnesty. L'Unione Europea e l'Italia, complici degli orrori libici. Il manifesto che apre così il ministro dell'Inferno. I governi europei e in particolare l'Italia, complici del sistema sui migranti, da parte della Guardia Costiera di Tripoli e del naufragio del 6 novembre, morirono 50 persone. Il rapporto di Amnesty International a Bruxelles, inchioda Unione Europea e Minniti alle proprie responsabilità. E poi in basso, clima, la parola ai privati. One Planet Summit di Parigi, a due anni dal COP21. Siamo alla prima pagina del messaggero con questa apertura, mossa Facebook, tasse in Italia. L'annuncio del gigante internet, le imposte pagate nei paesi dove si realizzano i ricavi, la scelta per frenare leggi più punitive nelle casse dell'erari, oltre 100 milioni l'anno. E poi la polemica sotto la testata per lo sport, vara senso unico, la Lazio è furiosa, protesta all'Olimpico nella gara con il Crotone, allarme e violenze, Giro d'Italia, ore a rischio, la partenza da Gerusalemme. La fotonotizia ostia, effetto neve sulla spiaggia e la schiuma che saluta l'autunno, fenomeno legato al cambiamento del clima. Inchiesta Consip, depistata, sospesi due ufficiali del NOA, interdetti Scafarto e Sessa, manipolazioni contro Renzi. E poi il tempo che apre così, ci vediamo in tribunale, furia Lazio contro gli arbitri biancocelesti, pronti alla piazza dopo l'ennesimo furto. L'idea di ritirare la squadra e mandare la primavera, spunta l'ipotesi della class action. E poi abbiamo anche questo titolo a centropagina, Rai 3 e Noe, Teleampi, come nasce la nuova ossessione antifascista del talk show Agora. Andiamo avanti con la prima pagina di Libero. Ecco qui, Padoan consiglia Trump non diminuire le tasse. Il nostro ministro si copre di ridicolo, il responsabile dell'economia insieme ai colleghi europei redarguisce il presidente degli Stati Uniti e lo accusa di danneggiarci. Invece dovrebbe solo imitarlo perché il fisco soffoca i cittadini. E poi al centro, la fotonotizia, 6 milioni l'anno non bastano a Donnarumma, il portiere capriccioso del Milan. Avanti ancora e siamo con la verità. Vediamo il titolo d'apertura. Una repubblica fondata sul lavoretto. I veri dati sull'occupazione sono drammatici. Il rapporto congiunto di ISTA, TIMS, INAIL e Ministero spazza via la propaganda. I precari sfondano a quota 4 milioni. Per lo più vengono chiamati a intermittenza e per poche ore alla settimana guadagnano 250 euro al mese. Però per le statistiche sono tutti occupati. La prima pagina dell'avvenire. Obiezioni e primi sì sul biotestamento cattolica e gemelli. Le date non siano inappellabili. Comincia in Senato la maratona per forzare l'approvazione della legge. Già domani maggioranza trasversale alla prova del voto segreto. Anche per le ultime due prime pagine vediamo solo i titoli d'apertura. Caostreni, siamo sul secolo XIX, si muovono i PM, anche la protezione civile nazionale in campo, pieni di emergenza da rivedere. La Liguria conta i danni del maltempo. Le ferrovie pronti a spiegare tutto. Il mattino, ecco qui, svolta Facebook, tasse in Italia, fatturati pubblicitari nel mirino 22 miliardi di diva e 230 milioni di utili. I ricavi non saranno più contabilizzati nel paradiso fiscale di Dublino, ma nei paesi dove sono realizzati. Lasciamo le testate nazionali, torniamo alle locali e ripartiamo dal centro. Siamo a pagina 2, parliamo appunto dell'esperimento. Sox, i russi, a sorpresa, rinviano l'esperimento. Lolli interviene in Consiglio regionale, ci sarà più tempo per le verifiche. Il fisico Pallavicini abbiamo chiesto una relazione e poi valuteremo. In basso, sempre in Consiglio regionale, ieri intercettazioni su Rigopiano, D'Alfonso, uso pornografico. E poi ancora andiamo a pagina 3, come va la nostra economia. Abruzzo, l'export riparte. Chieti traina la regione. I nuovi dati Istat, l'Aquila supera Pescara, che fa segnare indicatori più bassi. Soffrono l'agricoltura e il tessile. Grandi performance arrivano dall'automotive. Poi in basso, con le parole dell'economista Pino Mauro, valori migliori di quelli pre-crisi. Avanti ancora, siamo alla pagina della regione Abruzzo con i dati relativi al bilancio di previsione. Bilancio da 6 miliardi con più soldi per il sociale. L'assessore Paolucci, presidente del documento finanziario 2018 da approvare, è solido. Non si arrampica sugli specchi. Sbloccati i fondi per la Onlus Noemi. Qui una tabella riepilogativa delle voci principali del bilancio. E a tal proposito vediamo il servizio realizzato dal Tg6. Un bilancio solido perché sono puntuali sia la scrittura delle entrate, e quindi coerenti, sia quelle delle uscite. In secondo luogo è un bilancio che mette dentro la norma salvabruzzo, che libera risorse, soprattutto per finanziare il trasporto e a maggior ragione il sociale. L'altro tema che va sottolineato di questo bilancio è che in questi anni l'indebitamento è sceso. Così l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci, che ha presentato a Palazzo delle Micicoli il bilancio di previsione 2018, approvato dall'Aggiunta e che dopo il passaggio in commissione dovrà approdare entro l'anno in aula per l'approvazione. Un bilancio complessivamente da 6 miliardi e 14 milioni di euro, di essi 2 miliardi e 779 mila euro, riguardo il perimetro della sanità. Il bilancio regionale al netto di tale perimetro della sanità è dunque di 3 miliardi e 235 milioni di euro. Tolta questa somma le partite di giro, la spesa regionale effettiva è dunque di 1 miliardo e 196 milioni di euro. La restante parte della spesa, sottratta cioè alla spesa obbligatoria a quella vincolata, sarà pari infine a 153 milioni e 579 mila euro. Ed è questa la cifra che consente un'effettiva libertà di manovra, suddivisa tra le macrovoci di cui si compone il bilancio regionale. Tra queste voci la più consistente sarà quella del Fondo Unico per i Trasporti, 45,2 milioni, a seguire il funzionamento del Consiglio regionale, 24,4 milioni, il Fondo Sociale, 11 milioni, a cui si aggiungono però altri 9,7 milioni sempre per interventi nel settore sociale, 11 milioni per le compensazioni degli eco-incentivi tra Stato e Regioni. Scorrendo la lista della spesa prevista, spiccano poi 4,8 milioni per il settore agricolo, 4,3 milioni per l'Azzu, 3,8 per la protezione civile, 2,5 per il piano marketing dell'aeroporto di Pescara, 1,1 milioni di euro per la cultura, 5,6 milioni per indennizi da vaccinazioni. Quasi conclusa una rendicontazione che ha messo fine alla mancanza di questi accertamenti procedurali contabili di ben 12-13 anni. L'ultima volta è stata fatta nel 2004. Siamo noi che abbiamo messo mano a una rendicontazione così puntuale da rendere finalmente i nostri documenti molto più solidi, molto più veritieri, molto più trasparenti. Torniamo sul centro, ex Carichieti, Banca Italia accusa, parla in commissione il capo della vigilanza per Barbagallo, il crack causato da governance inadeguata. E ora le pagine delle notizie di Pescara e provincia. Iniziamo la pagina 14. La Tari più salata nel 2018 per famiglie, negozi e uffici. Pronta la proposta che andrà in consiglio. Ecco i vari esempi di aumenti. Poi ancora pagina 15. Case sul lungomare sud. Anche i giudici dicono no. Il Tar respinge il ricorso della società per scaraporto contro il comune, che ha negato il cambio da uffici a residenze. Alessandrini, validata la nostra posizione. E poi in basso, riaprite il corso Vittorio a doppio senso. La Confcommercio presenta un piano per il traffico al comune. Sì a nuovi parcheggi e bus elettrici. Poi ancora la cronaca violentata davanti all'amico. Arrestato il secondo uomo. La polizia individua il responsabile dell'aggressione di febbraio sulla Tiburtina. Una 22enne stuprata nella notte dopo essersi appartata in un capannone. Avanti. Siamo a pagina 19. Con il business della contraffazione. Griffalse bloccato un milione di pezzi. Il bilancio della finanza nel bienio 2016-2017 a Pescara non si produce, ma si assembla e la qualità è sempre migliore. Poi ancora pagina 21. Scuole di frontiera. Ma che classighetto alla media. Foscolo lezioni personalizzate. Dopo la petizione online contro la sezione con SoliROM. La preside spiega così diamo pari opportunità a tutti. In basso solidarietà degli ottici per Amatrice. I soci Argovision portano a segno la collega che riapre il negozio dopo il sisma. Siamo sempre a Pescara. Box vuoti al mercato in 18. Aspettano le chiavi. Tornano alla carica gli artigiani che sette anni fa hanno avuto l'assegnazione. Adesso chiedono all'assessore Cuzzi di velocizzare l'iter delle concessioni. Avanti ancora. Siamo alle pagine di Montesilvano. Aliano, il consigliere di hashtag Montesilvano 2019, si rischia la bagarre dei ricorsi davanti al Tar. Sollecitata un'ipotesi condivisa per evitare l'ultimatum di D'Alfonso ai consigli comunali di esprimere un parere. Poi l'emendamento, leggiamo di spalla, il Movimento 5 Stelle spinge per far nascere la città metropolitana. In taglio medio, oggi assemblea, ma non si parla di fusione, seduta straordinaria del Consiglio Comunale, sempre a Montesilvano. E poi, continuando con Montesilvano, Fonte dell'Olmo, scuola in cantiere, lavori per 300 mila euro alla materna, aule più sicure dal prossimo anno. Poi ancora, a Città Sant'Angelo, raccolta fondi per aiutare la chirurgia pediatrica. Questa sera, a Picciano, una delle iniziative di solidarietà promosse dal sodalizio Massimo Donlus, a sostegno dell'Associazione Malformazioni Infantili. Proseguiamo, siamo a San Giovanni Teatino, Bonifica, Amianto, entro aprile del 2018. La società Master Building Sardigna presenta il cronoprogramma dei lavori nell'ex Fonderia. E poi a Caramanico, Natalia Caramanico, Sport, Benessere e Cantine d'Inverno. Pronto il programma delle manifestazioni nei giorni di festa, con numerosi appuntamenti per vivere a fondo la montagna. E a Penne spunta una nuova sede per i disabili del Paolo VI. In Regione si sta vagliando la possibilità di assegnare ai 30 ospiti sottoposti a cure in regime di semi-internato la cittadella dello sport, dove è disponibile la piscina. E siamo alla pagina di Chieti, inchiesta sul Megalo 2 Blitz in Comune. I carabinieri forestali per tre ore nell'ufficio urbanistica acquisiti gli atti del progetto dopo gli esposti di Regione e WWF. In basso a Vasto, bomba per i Bancomat, tre arresti dei carabinieri arsenali in un'auto con 15 kg di chiodi per bucare le ruote. Poi leggiamo di spalla, ecco qui domani il ministro a Chieti, Università e Tribunale, festa doppia con Orlando, il ministro della giustizia Andrea Orlando. Pagina di Lanciano, Ernesto, due giorni di silenzio e angoscia. Valerio, 34 anni, sparito dopo aver prelevato soldi al Bancomat su Facebook, trovati i suoi commenti sulla pagina ProSiria. Ecco qui Ernesto Valerio nella foto, 34 anni, scomparso a Mantua, ma lancianese d'origine. E poi ancora, anziana morta per le gravi ustioni, vestiti a fuoco mentre cucina, l'autopsia conferma l'incidente domestico. In basso, a Fossa Cesia, turni gonfiati, infermiere condannato, truffava l'asla, entrando tardi e uscendo prima, nove mesi e mille euro di danni. Medico assolta. Proseguiamo e siamo alla pagina dell'Aquila. Crolla un palazzo puntellato, paura in centro storico, l'immobile vincolato dalla soprintendenza è nella zona rossa di via Paganica. Il sindaco Biondi emette un'ordinanza immediata di abbattimento. L'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale è stato dato ieri mattina alle 7.45. L'iter per la ricostruzione è fermo, ancora la scheda parametrica parte prima. I tecnici progettisti avevano già ricevuto la richiesta di integrazioni il 18 novembre del 2016. Vediamo a tal proposito il servizio. Un palazzo già gravemente danneggiato dal sisma, un palazzo vincolato in questo momento. Su via Paganica c'è il sindaco, c'è l'assessore alle opere pubbliche, ci sono anche i tecnici del comune dell'Aquila. Arriverà anche la sovrintendenza per verificare la situazione. Sicuramente il palazzo sarà abbattuto. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha ordinato la demolizione del fabbricato al civico 22 di via Paganica dopo il crollo nella notte di una porzione di stabile in piena zona rossa, già interdetta peraltro al traffico veicolare. A cedere non è stato un puntellamento, ma una parete già gravemente compromessa e che già era stata oggetto di verifiche. La porzione non era stata oggetto invece di opere provvisionali di messa in sicurezza. Beh, è successo che c'era una parete già semicrollata a seguito del terremoto del 2009, per cui non erano state previste opere provvisionali e questa notte c'è avuto un ulteriore crollo, probabilmente derivato dal vento o comunque dall'ammaloramento delle pareti. Adesso abbiamo deciso con i vigili del fuoco di aumentare i presidi di interdizione all'accesso, perché comunque si tratta di un fabbricato localizzato in zona rossa e quindi in un'area già non accessibile. Con la sovrintendenza, trattandosi di un fabbricato vincolato, abbiamo deciso di fare un'ordinanza urgente al presidente del consorzio per la messa in sicurezza, per la demolizione controllata della porzione interessata e per consentire anche ai palazzi di fronte e di lato di continuare a lavorare in sicurezza, perché si tratta di palazzi di cantieri già aperti. Sul posto sin dalle prime ore della mattinata è il sindaco, il vice sindaco, i tecnici del comune e la sovrintendenza alla municipale, in quanto il palazzo era vincolato. Con i vigili del fuoco si è deciso di posizionare ulteriori barriere per rinforzare la sicurezza. Il consorzio, ora dopo l'ordinanza urgente del sindaco, dovrà tenersi all'ordine in tempi rapidissimi. Purtroppo nel centro ci sono tanti buchi neri a causa delle lungaggini burocratiche, ammette Biondi e del tempo che passa. Questo è il problema già rilevato più volte della ricostruzione con i buchi neri per pratiche che scontano delle lungaggini eccessive e soprattutto perché non ci sono strumenti in mano all'amministrazione comunale per prevedere un regime sanzionatorio nei confronti di chi, non parlo della fattispecie specifica, di chi perde troppo tempo nel presentare le documentazioni richieste dagli uffici. Pagina terramana del centro, Renata, l'ultima traccia è sul treno. Il 9 ottobre le celle telefoniche sulla linea ferroviaria Ancona-Giuliano hanno agganciato il cellulare della donna. Poi all'università, Esther, sono io, mostra ispirata alla dottoressa assassinata. Noi ci fermiamo qui per la prima parte di mattino 6, spazio ora le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte. Di nuovo buongiorno, riprendiamo la nostra rassegna con il messaggero Abruzzo. Ecco qui Rigopiano e Sox. Il consiglio diventa rovente. Valanga sull'hotel d'Alessandro a Forza Italia. Inerzia ci siamo sostituiti allo Stato. Esperimento radioattivo rinviato per la mancanza di strumentazioni. E poi ancora seduta agitata da continui scontri d'Alfonso sulla catastrofe. Avevamo attivato l'esercito. E poi in basso, ecco qui, la rivolta dei nastri neri sul camice bianco. Medici in piazza, corsie degli ospedali vuote. Il primario deferice, basta andare in qualsiasi pronto soccorso per trovare pazienti in fila da ore. Contestate condizioni di lavoro gravose e usuranti con tendenza ad un ulteriore peggioramento. Ieri eravamo a Pescara in Viale Conte di Ruvo sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità proprio per il sit-in che si è tenuto. Vediamo. Sciopero nazionale dei medici in Italia. Oggi c'è un presidio a Pescara in Viale Conte di Ruvo. Quali sono i motivi di questa protesta? Cosa chiedete? Noi siamo veramente delusi da questo governo. In una finanziaria di 20 miliardi dove si sono trovati bonus per qualsiasi cosa, sino anche per la protezione degli orti e dei giardini, non si è trovato un euro per rifinanziare il sistema di servizio sanitario nazionale. Questa è veramente una grande delusione, un'ennesima dimostrazione della considerazione che il governo ad ogni livello ha dei suoi medici. La sanità pubblica è al collasso. Sono otto anni che i medici non hanno più un contratto di lavoro. Il contratto è stato bloccato da otto anni. È un rimpallo di responsabilità del governo e delle istituzioni ad ogni livello. In Abruzzo la situazione è semplicemente disastrosa. Lei pensi che dal 2010 ad oggi 9 mila medici usciti dal lavoro non sono stati rimpiazzati. Se lei gira negli ospedali vedrà degli interi reparti che non hanno organico e quelli che sono rimasti devono supplire ai colleghi che sono andati via in pensione o per altri motivi. Ogni qualvolta c'è un disservizio, non c'è nessuno che voglia implicare le responsabilità, addebitare le responsabilità alle condizioni di lavoro a chi dovrebbe fare e non fa. I medici sono sempre gli unici responsabili. Noi diciamo basta, ripeto, è solo una prima iniziativa, ce ne saranno delle altre. E concludo dicendo con rammarico che l'Italia fino a qualche tempo fa era un'eccellenza della sanità, cosa abbastanza rara nella nostra nazione. Noi eravamo addebitati come una sanità di eccellenza, tra le prime del mondo. E questo io penso grazie anche ai medici italiani. Oggi siamo al collasso. Siamo alle pagine di Pescara. Consiglio legittimo su Pescara Porto. Per il Tar la mancata valutazione dell'Assemblea cittadina impone alla Regione di annullare anche il permesso del 2012. La sentenza rischia di azzerare tutta la trafila dei cambi di destinazione d'uso chiesti dalla società nell'ex Edison. Alessandrini e Civitarese, il pronunciamento non fa che validare la posizione da noi assunta. E torna in discussione il futuro delle tre torri sulla Rivera Sud, altra battaglia al Consiglio di Stato. In basso, false griff, i grandi brand a lezione dalle fiamme gialle. Scambio di informazioni tra rappresentanti delle aziende e investigatori della finanza. Avanti ancora, sempre a Pescara, stupro nel capannone. Secondo arresto in manette un tunisino di 35 anni per la squadra mobile. Lui, l'autore materiale della violenza su una 25enne pescarese. A febbraio, l'aggressione contro una coppia nello stabile, abbandonato sulla Tiburtina, usato dagli spacciatori di cocaina. Il complice, un altro straniero, accusato anche di lesioni e rapina, era finito in manette a giugno scorso. E poi, maxi sequestro di pesce scadente nella rete del NAS. 200 kg di prodotto supermercato multato. I consigli per evitare truffe durante le feste. E poi ancora, siamo a Francavilla. Francavilla, vincolo su quel che resta della sirena. A demolizione avvenuta il Ministero riconosce il pregio del torione aggiunto. Il diritto d'autore rimendicato dai progettisti complete il pasticcio dell'abbattimento dell'edificio simbolo. Ieri, a tal proposito, sulla prossima inaugurazione abbiamo ascoltato il Sindaco di Francavilla, Luciani. Sono giorni importanti, quelli prima di Natale per Francavilla al Mare Sindaco, perché il 15 dicembre ci sarà l'inaugurazione del nuovo Palazzo Sirena. E poi state proseguendo con i lavori allo stadio Valle Anzuca. Siamo arrivati all'inaugurazione del Palazzo Sirena, un palazzo che risorge dalle ceneri. E' stata dichiarata, questa opera architettonica è stata dichiarata di elevato valore culturale. Un'opera progettata da Mosericci, un pronipote di Francesco Paolo Michetti, che ora campeggia all'interno della Piazza Sirena, che sarà ancora da ristrutturare la piazza. Invece, per quanto riguarda il Palazzo Sirena, contiene un auditorium sirena perfettamente rinnovato. Abbiamo speso oltre 500 mila euro per farlo. E il 15, questa struttura, apre le sue porte ai cittadini di Francavilla e non solo. Diventerà il nostro polo culturale, sarà un centro congressi. Ci si potrà fare del teatro, della musica, del cinema. 300 posti a sedere che rilanceranno l'economia del centro città, esattamente come avevamo immaginato. A proposito di stadio, invece i tifosi di Francavilla vogliono sapere, Sindaco, quando il Francavilla potrà tornare a giocare le gare casalinghe nel suo stadio. Nella prima giornata utile, questo lo prometto, pace fatta con il presidente Gilberto Candeloro, che è una grande persona, che ci ha promesso che porterà la squadra, vuole fare calcio, lo vuole fare in maniera importante, lo vuole fare a Francavilla. Ha promesso che farà di tutto per portare la squadra nei professionisti. E quindi noi ci metteremo il nostro come amministrazione, gli staremo vicini, anche qui giorno dopo giorno. Anzi, il 15 forse sarà l'occasione anche per invitare il presidente Candeloro a questa nuova inaugurazione della nostra città, perché lui deve diventare necessariamente un nostro cittadino onorario. Già lo è, in definitiva. Sempre a Francavilla, Michetti e gli altri, al Mumi di Francavilla, una mostra super per i 70 anni del premio, a fantasmi di luce, 60 grandi della pittura, nel nome del maestro abruzzese. Sabato, l'inaugurazione. Avanti ancora, pagina dell'Aquila, campo imperatore, slitta l'apertura degli impianti. Le condizioni meteo di questi giorni ritarderanno i lavori per le fontari, sfuma il sogno del Natale bianco. Bisognerà attendere dopo l'epifania. L'ennesimo tracollo economico e promozionale, dice Luigi Faccia di Save Gran Sasso. E poi ancora, in basso, tangente per la pratica, resta agli arresti. E' respinta l'istanza di revoca dei domiciliari per un tecnico comunale di Barisciano. Crollo in zona rossa, esplode la polemica. Vento e pioggia fanno precipitare una facciata danneggiata. L'area era già interdetta al traffico dei veicoli e alle persone. Il sindaco Biondi dice che sono i buchi neri della ricostruzione romano, di passo possibile. Non è colpa della soprintendenza. Verranno prese ulteriori precauzioni per aumentare la sicurezza del quartiere. Poi, con l'emaggio, ci siamo. Apertura il 20. E' arrivata la nota ufficiale che certifica la rinascita presente Franceschini. E poi ancora, siamo in Marsica. Assunto il marito della consigliera. E' lecito l'esecutivo De Angelis affida tutte le spiegazioni nel caso al capogruppo di Avezzano Rinasce. Donato Aratari. La spesa viene giudicata minima rispetto a quella che era stata predisposta dalla vecchia amministrazione di Pangrazio. E poi ancora, in basso, leggiamo randellata all'ex vicesindaco che già prima aveva sbagliato le valutazioni e le accuse. Avanti ancora, siamo alle pagine di Chieti. Scuolabus presi a noleggio. Parte una raffica di esposti spesi in un anno anche 50 mila euro. I mezzi affittati senza conducente. Il Movimento 5 Stelle rivolge a Corte dei Conti e ANAC il Comune. Faremo le nostre valutazioni. E poi ancora, in alto, leggiamo la principale contestazione dei grillini. Il mancato acquisto di mezzi di proprietà. E poi ancora, Natale al risparmio sulle luminarie. Scoppia la polemica. Poi ancora, andiamo a pagina successiva e siamo a Vasto in auto con la bomba. Tre arrestati. I pugliesi intercettati sulla Statale 16 e presi dai carabinieri. L'ipotesi dell'accusa è la banda che fa esplodere i Bancomat. A bordo trovato e sequestrato un kit per gli assalti con ariete, micce e chiodi a tre punte. Anti-inseguimento in manette padre, figlio e una donna. Il Maggiore Consales, l'ordigno, poteva scoppiare dentro la macchina. E poi in basso, anzi no, questa volta a Lanciano, prima eravamo a Vasto, assenteismo alla ASL, infermiere condannato. Nove mesi per truffa ad Angelo Morena. Il giudice Belli ha invece assolto la dottoressa Maria Stella Vartuli. E poi in basso, addio a Guido Mazzetti, gloria della Provasto, era anche ispettore di Lega. Avanti ancora con le pagine di Teramo. Acquisti di Natale sul web. Crescita ma anche dubbi. Le iscrizioni delle nuove attività in aumento, secondo Union Camere. Corso San Giorgio ritorna a vivere dopo i recenti lavori di pavimentazione. Per Monica Carota adesso scambio i nostri prodotti con un esercizio di piedinerie in Romagna. Insomma, ci sono anche dubbi e polemiche. Di spalla fumogeni nel corteo Ultras del Teramo. Nei guai si celebrava il 14 luglio scorso, il 104esimo compleanno del club. Ma la Digos li ha identificati. E poi ancora in basso, la piscina resta senza gas. Esposto in procura, il comune ha staccato l'utenza d'Alberto. Si faccia chiarezza. E sulla costa a Giulianova, no all'ospis, il mercato coperto. Il cittadino governante ricorda come ci sia già un piano dell'associazione per dare all'area il valore di spazio pubblico. Avallata la tutela della bellezza paesaggistica circostante con conversione in nuove funzioni pubbliche e piazza delle erbe. Ai piani superiori, spazi funzionali per cultura e sociale. Con un'immagine di Franco Arboretti, leader del movimento cittadino governante. Poi per la cronaca, barista viene aggredito dai Rom. Commercianti sit-in di protesta, grave episodio di violenza in via Sauro. Alle 18 luci spente. Poi in basso, ad Albadriatica, turisti colpiti da gastroenterite acuta. Si allungano i tempi del processo. I fatti risalgono al 2010. Secondo l'accusa, i depuratori erano in tilt. Dovevano essere sentiti superstiti, ma ai difensori non è stata data copia. Nel mirino ex dirigenti della Ruzzo Reti. Lasciamo ora il messaggero e andiamo a sfogliare le pagine della città. Siamo a pagina 5. È rinviato l'esperimento nucleare SOX. Difficoltà tecniche in Russia per la produzione della sorgente radioattiva. Secondo gli standard scientifici, l'esperimento doveva iniziare nella prossima primavera. Per il momento si tratta solo di un rinvio per cause tecniche dopo le prove. Avanti ancora, siamo alla politica terramana. Bacchettata ai gattiani per un centrodestra puro. L'ex assessore Rudy Di Stefano chiede autocritica. Poi lancia l'appello al programma di coalizione. Avanti ancora, andiamo a pagina 7. Piscina vittima dell'allergia ai bandi. Il comune stacca il gas e chiude l'impianto. Il gestore dell'Acqua Viva presenta un esposto in procura. Avanti ancora, sei ultradenunciati per i fumogeni. La contestazione per i fatti durante la manifestazione del 15 luglio scorso in centro. Ecco uno scatto che è appunto relativo a quella giornata. Avanti ancora, pagina 9. 50.000 euro per l'addio illuminato. La metà donata da BIM, Fondazione Tercas e Popolare di Bari. Il resto, la corrente, lo paga il comune. Avanti ancora, siamo alle notizie che arrivano dalla provincia di Teramo. Il vento abbatte pali, alberi e cartelloni. Più di 50 gli interventi effettuati ieri e domenica dai vigili del fuoco per le raffiche di vento. Per fornire un'efficace risposta all'emergenza che ha colpito la provincia, sono stati impegnati tutti i vigili del fuoco in servizio operativo, sia dalla sede centrale che nei distaccamenti di Roseto e Nereto. Tra le altre cose, danneggiato anche il tappeto mobile dei prati di Tivo. La poca neve intanto rischia di far slittare l'inizio della stagione invernale. Poi ancora, va de mecum per le bollette del Ruzzo. Troppi clienti terramani continuano a sbagliare. Le modalità di pagamento. Siamo a pagina 13. Paolucci, testimonial del vaccino anti-influenzale. L'assessore regionale alla sanità con il consigliere Monticelli ad Atri per la campagna di prevenzione. Quest'anno l'influenza si trasmette da qualche giorno prima della comparsa fino a 5-7 giorni dopo la malattia. Avanti ancora, siamo a Nereto. Patteggia lo spacciatore delle scuole. Pena di sei mesi al marocchino 36enne che è stato sorpreso due volte a Nereto. Secondo i militari, l'uomo riforniva di ascici ai ragazzi all'ingresso e all'uscita da scuola. A Mosciano, Amadori stabilizza 75 lavoratori. Si grato il contratto integrativo tra proprietà e dipendenti di Mosciano. L'accordo prevede anche incentivi legati alla produttività e alla presenza e attenzione su benessere e salute. Avanti ancora, siamo a pagina 16. A Roseto in particolare il sindaco accelera sul distretto sanitario. Il comune mette a disposizione dell'Astra l'area di piazza Marco Polo. La struttura può accogliere gli utenti della vallata del Vomano e dei paesi limitrofi. Sempre a Roseto, Mazzata, Tari, sull'aumento pesano anche i morosi eccellenti. Secondo i dati del comune, alcune strutture ricettive avrebbero accumulato un debito di 400 mila euro. Una delle strutture morose dovrebbe al comune circa 120 mila euro di tariffe non pagate. Andiamo avanti ora sulla pagina dello Sport. Ecco qui con le parole del difensore Altobelli. Non voglio fare sempre la riserva. Questo dice il giocatore che era arrivato lo scorso anno dal Pescara. Il difensore Biancorosso apre ad un suo addio nel mercato invernale. Mancano due gare, poi vedremo. Con il rientro di Caidi e con Speranza e Sales inamovibili per il centrale ci sarà meno spazio. A Macerata era diverso. L'allenatore mi conosceva meglio, ma io qui sto bene. E allora, prima di vedere le prime pagine delle testate sportive nazionali, ascoltiamo una pillola proprio del difensore Altobelli. Lì a Macerata ho avuto più spazio, forse anche perché il mister che avevo mi conosceva un po' di più rispetto al mister di oggi. Io speravo pure quest'anno di ricavarmi uno spazio in più rispetto a quello che sto avendo, però davanti ho Ivan, Caidi, Sales, gente un po' più esperta e grande di me, quindi faccio fatica. Io penso che nessuno lo accetterebbe, però se dobbiamo pensare a gennaio è presto, perché comunque mancano ancora altre due partite, finiranno quelle due partite e poi vediamo il da farsi. Anche se io qui a Teramo mi trovo benissimo, anche se ho poco spazio. E ora, appunto, sfogliamo le pagine dello sport, intanto le prime pagine dei tre quotidiani nazionali. Qui siamo sulla Gazzetta dello Sport, Donnarumma, Milan, area di divorzio, Gigio Caos. In partenza già a gennaio, il portiere scrive di aver firmato sotto pressione la clausola, si scopre che non c'è un pasticcio, ma spunta l'asse Raiola Club per trovare una soluzione che vada bene a tutti. E poi assegnati Gazzetta Sports Awards del 2017, Notte di Stelle, Totti e Contador, Le Leggende, poi Agnelli e Buffon, Belotti e Gasperini, Lagoggia e Dovizioso, Manassero e le ragazze del volley paralimpico. Avanti ancora e siamo al Corriere dello Sport, l'apertura sempre dedicata al caso Donnarumma, Gigio Zitto e gioca, offensiva di Raiola, il Milan lo blocca, Donnarumma resta, il contratto c'è e va rispettato. E poi sotto la testata, brivido Inter, va avanti soltanto ai rigori, il Pordenone sfiora l'impresa, Nerazzurri e i quarti, ma che sofferenza, Spalletti fa entrare i big, ma decide Padelli, para tutto. E poi tutto sport, Agnelli, pugno all'Europa e carezza a Di Bale, il presidente della Juve, rilancia l'obiettivo Champions, punge Bonucci e coccola l'argentino che incassa anche la fiducia di Buffon. Poi di Spall, tutti i segreti del ribaltone di Mihailovic sul fronte Toro, poi le parole del difensore Burdisso, Lazio, quante bugie. Veniamo ora alle pagine dei quotidiani locali, pagina dello Sport, ripartiamo dal centro, ecco qui con l'intervista al difensore Fornasier che dice, difensore del Pescara, Fornasier facciamoci un esame di coscienza, il centrale difensivo cresciuto nel Manchester United suona la carica, basta con i cali di attenzione, abbiamo le qualità per rialzarci. Il 24enne di Vittorio Veneto dice, abbiamo perso tanti punti perché eravamo deconcentrati e non per motivi tattici, ma ora voltiamo pagina. Poi ci sono anche le parole del portiere Fiorillo, non bisogna avere paura, dice l'estremo difensore, sbagliato a gestire il vantaggio con il Novara, Coulibaly sostituirà Valzania. Poi vediamo ancora, tornando indietro, questa notizia che arriva dall'Aquila, nuovo ribaltone in società, via del giudice Dionisi amministratore unico e forse Cima direttore sportivo. Avanti ancora, e siamo al campionato di eccellenza per quanto accaduto ieri, a Chieti, allenatore silurato da squadra e tifosi. Sposito aveva preso il posto di Aielli, ma i giocatori, su richiesta degli ultra, non si sono allenati. Il capitano Lalli spiega il gesto, non siamo d'accordo con la scelta fatta dal club, noi teniamo alla maglia. E poi ancora ha contestato il presidente Trevisan per la panchina Montani-Lucarelli o Mecomonaco. Qui alcuni scatti, uno in particolare con i giocatori a rapporto dai tifosi e poi appunto la rinuncia forzata a quello che doveva essere il nuovo allenatore del Chieti, Carmine Esposito, che prendeva il posto del dimissionario Aielli. Dunque panchina ancora vacante a Chieti. Torniamo tra i pro, in Serie C Terramo pensa al mercato, torna di moda Masullo. I biancorossi sondano il terzino del Piacenza, sale e sa richieste, Altobelli potrebbe partire, valuterò. E ora il messaggero Abruzzo con le pagine dello Sport. Si riparte dall'intervista al portiere Fiorillo Pescara. Il gruppo è unito, il portiere Fiorillo, uno dei senatori, smentisce la presunta rottura con Zeman e deve ancora scattare la scintilla individuale. Forse è stato sbagliato far credere che questa squadra potesse, con un semplice battito di mani, essere tra le prime. Abbiamo incassato troppi gol negli ultimi minuti, quando forse mogliamo la carica agonistica. Poi ancora abbiamo qui, anche in questo caso, la notizia di questo ennesimo cambio nella società dell'Aquila Calcio. E Dionisi, il nuovo amministratore per il volley in basso, la Sieco a Mondovì, la trasferta più lunga. Recuperato Zanettin, i piemontesi fino ad oggi sono stati deboli in casa. E poi ancora Teramo, i gol arrivano ma non dagli attaccanti. Fino ad oggi 16 centri realizzati, solo la metà è dei bomber. Anche Altobelli chiede più spazio e potrebbe valutare altre proposte. E poi ancora Chieti nel caos, la squadra rifiuta Esposito ora 3 in Lizza. E per il basket vediamo Milina e Raiola, ovvero il vecchio e il bimbo, insieme a inseguire il veterano coach di Campli e il debuttante che guida Pescara. Entrambi uniti sull'elogio di Salvemini, l'abruzzese che ha il comando con Sansevero. E' una notizia di Calcio a 5. Morgado, intervento ok per il giocatore del Pescara Calcio a 5. E per la Serie D, vediamo, Francavilla. Fofana si riprende la squadra. Finiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6. La nostra rassegna tornerà domani mattina, come sempre, alle ore 8. Vi ricordo poi gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie Silvia Gentile in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie Silvia Gentile in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Grazie a voi per la cortese attenzione.